Giovedì 6 aprile 2017 alle ore 9.30 nella chiesa della Dolorata dell'Itca sarà celebrata una santa messa per ricordare due nostri giovani concittadine Luciana Capuano e Ilaria Placentino che hanno perso la vita durante il terremoto dell'Aquila nel 2009. Dopo la messa sarà deposta una corona di fiori al cimitero e a seguire la commemorazione presso il monumento in Viale Aldomoro dall'amministrazione comunale. La città è invitata a partecipare.